La ripresa sul video di ieri è un tema che mi interessa particolarmente. Proprio quest'anno ho avuto il piacere di leggere decine di papers che sono stati preparati per il congresso mondiale che riguardano proprio questa sezione dell'antropologia filosofica. I temi lì vanno più verso le nuove frontiere della riflessione sull'essere umano, ma si torna anche sempre sui classici che sono oggetto di questo ciclo di seminari da Scela a Plessna e a Kelen. Ho sentito un po' già che cosa avete fatto ieri su nuove interpretazioni di Max Schela, anche sul personaggio, questa persona del tutto particolare, una persona che, come si dice in tedesco, haptisch, aveva bisogno di prendere le cose proprio in mano, i libri divorava. Quando leggeva un libro doveva strapare le pagine proprio per, diciamo, assorbire il contenuto. Quindi proprio un personaggio particolare che è vissuto però in un periodo intenso. Se consideriamo quest'ultimo lavoro che viene considerato come uno dei primi testi importanti di quello che poi è diventata una disciplina filosofica, appunto l'antropologia filosofica di Stellung des Menschen im Kosmos, e rielaborazione di una relazione che aveva fatto nel 1927, è stato pronunciato in un periodo dove c'erano grandi personaggi di varie discipline. Appunto in quel seminario in cui aveva fatto questa relazione c'era anche l'etnologo Frobenius, oppure il sinologo Richard Wilhelm o il psicologo Carl Gustav Jung. Oggi ci sonniamo una concentrazione di personaggi così importante per un seminario. Anche in Germania, dopo un lungo periodo, si torna nuovamente a questi autori e ci sono anche nuove interpretazioni. Questo vale soprattutto per Plessna, c'è un grande interesse per Plessna, ma anche per Scela. Sono molto curioso adesso di sentire la sua interpretazione e do subito la parola. Diciamo che una parte fondamentale l'ho data ieri, per cui forse dovrai cedere il video adesso, vorrei andare un po' avanti. No, ricordo, faccio un breve accenno, ricordo che quando sono venuto qui all'inizio, che era ancora verso la fine degli anni Ottanta, ci facevano lavorare, nel senso che ognuno di noi dopo doveva fare una relazione e presentarla prima dell'inizio. C'era una specie di riassunto, che non era poi... Io mi ricordo che ero con Gadamer, per cui dopo Gadamer mi correggeva, mi diceva, ma qui su questo punto... Ah, io ci facevano le quattro di notte! Per cui, insomma, era anche abbastanza impegnativo. Cioè, non è che si andava soltanto ad ascoltare, dopo ognuno di noi doveva fare una breve relazione, quindi c'era anche un lavoro di questo tipo. Ecco, questa è una breve parentesi. Sì, faccio però un riferimento ad alcune cose che hai detto, perché mi sembrano interessanti. Penso che ti riferisci al convegno mondiale in Cina quest'anno. Sì, sì. Fra in Cina, sì. Beh, in Germania c'è stata un po' una ripresa di questi studi, c'è stata la Plesner Gesellschaft e la Scheller Gesellschaft, che hanno lavorato molto in questa direzione e hanno ripreso un po' questi temi. Abbiamo fatto un convegno in Cina, proprio a dicembre, la Scheller Gesellschaft, in cui abbiamo ripreso l'ultimo saggio di Scheller, che era sull'Hausgleich, che io tradurrei proprio Globalizzazione, che è un saggio eccezionale, nel senso che è stato scritto veramente negli anni, nel 1927 circa, e presagiva un po' il futuro della Germania. Diceva, o la Germania abbandona il nazionalismo e la pretesa di germanizzare l'Europa, e quindi intraprende una strada che è quella della, come si potrebbe dire, del confronto, però un confronto attivo con le altre culture, oppure, quindi della globalizzazione, e si trasforma, trasforma se stessa l'Europa, oppure si va verso la catastrofe. Questo detto pochi anni prima dell'avvento del nazismo, è abbastanza indicativo. E lui aveva presagito che noi siamo già in questa nuova era della globalizzazione, e aveva individuato anche alcune categorie fondamentali. diceva che bisogna superare questa contrapposizione, ad esempio, fra razionalismo e sentimenti, fra occidente e oriente, quindi pensiero asiatico e pensiero occidentale, fra uomo e donna. C'era proprio tutta una serie di categorie che, secondo me, sono interessantissime, perché aveva colto, secondo me, un aspetto fondamentale della nostra epoca, che è quella della globalizzazione. Diceva, noi non è che possiamo, oggi se ne discute molto, no? Non è che possiamo fare una discussione se rifiutare o meno la globalizzazione, perché questo è un dato inevitabile. Quello che dobbiamo scegliere è quale tipo di globalizzazione vogliamo fare. Perché ci sono due possibilità. C'è una globalizzazione che ci porta alla catastrofe, e una globalizzazione, invece, in cui c'è il rispetto dell'altro e c'è una capacità di compenetrare, di mettere assieme punti di vista diversi. E lui, naturalmente, propendeva per questa seconda possibilità, no? Avere la capacità di prendere in considerazione punti di vista diversi. Lui faceva l'esempio di questi saggi cechi indiani, c'è questo racconto che parla che in un villaggio indiano, erano tutti quanti cechi, e a un certo punto arrivò un animale che non era mai arrivato in quel villaggio, che era un elefante. Allora, diciamo, gli abitanti di questo villaggio convocano questa, diciamo, assemblea degli anziani, gli assemblea degli anziani si riuniscono per decidere che cosa era questo nuovo animale. Allora, questi anziani si avvicinano all'elefante e ognuno di loro dà una descrizione diversa dell'elefante. Chi aveva toccato la proboscide lo descrive in una certa mania, chi aveva toccato la coda in un'altra, chi le zanne in un'altra ancora, e alla fine tutti quanti pretendevano di avere ragione. In realtà tutti avevano ragione, però nessuno aveva una ragione assoluta. La verità è la capacità di mettere assieme queste varie prospettive. Questo è un pochettino la tesi anche della globalizzazione di Scherer. Cioè, ci sono diverse prospettive e nessuno può avere la pretesa di imporre il proprio punto di vista. E di fatto, lui, la critica che faceva la Germania era proprio questa. Noi dobbiamo superare il militarismo tedesco, dobbiamo superare il nazionalismo tedesco, e dobbiamo avere questa capacità di confrontarci con le altre culture, gli altri popoli. Addirittura lui parlava di un confronto con l'Asia per la salvezza dell'Europa, costruire una nuova Europa, sapendoci confrontare, ad esempio, col pensiero asiatico. E poneva delle cose molto concrete, che possono sembrare anche un po' strane. Ad esempio, la medicina. Diceva, noi abbiamo un concetto della medicina occidentale che punta tutto sui farmaci, sull'intervento chirurgico esterno. Dobbiamo imparare che c'è anche una medicina diversa, che invece ha una metodologia completamente, diciamo, complementare alla nostra, quella orientale, che invece si basa su questo tipo di autocontrollo, di anche una capacità psichica di intervento sul corpo. E quindi la sua proposta, ad esempio, che fra l'altro nasce proprio con Scheler, è quella dell'antropologia medica, che viene sviluppata dopo da Victor von Weizsäcker e da altri, diciamo, autori, nasce proprio con questa idea che viene proposta da Scheler, partendo da questa necessità di un confronto fra diverse culture. Questa era una tesi che forse è una delle più feconde, diciamo, del suo pensiero. Per quanto riguarda poi l'antropologia filosofica, è chiaro che oggi uno dei temi che penso verrà dibattuto in questo vostro convegno è il tema del transumano, cioè di questo problema di una trasformazione dell'umano e di un superamento dell'umano. C'è anche questo interrogativo, se possiamo ancora pensare, oppure se si può ipotizzare un futuro in cui noi ci trasformiamo completamente e quindi non c'è più l'umano. C'è una trasformazione anche dell'uomo. Però, secondo me, qui c'è un interrogativo molto importante che dovremmo porci. Cioè, un conto è una trasformazione tecnologica. Cioè, io posso anche pensare che fra cento anni saremo tutti migrati su dei ciborg e quindi, non so, sarà una umanità priva del corpo come lo possediamo adesso. Si può anche ipotizzare, non so, si potrebbe ipotizzare che l'umanità a un certo punto trasmigrerà su dei corpi artificiali. Questo, fra l'altro, era un'ipotesi che era già presente anche nell'antropologia filosofica del Novecento. Si erano già fatte delle ipotesi in questa direzione. Però, il problema, significa questo un superamento dell'umano? Secondo me, no. Cioè, sarebbe come il programma rimane sempre uguale. C'è un cambiamento soltanto estetico, però rimane sempre la stessa logica. Se noi vogliamo guardare bene nella tradizione della nostra cultura, anche della nostra cultura, c'è già stato un tentativo di superare l'umano, non da un punto di vista tecnologico, ma da un punto di vista della logica. e mi sembra che sia un tentativo molto più interessante. Sono tutti i tentativi che ha fatto la filosofia di pensare, appunto, un sapere come esercizio di trasformazione. Questo tipo di filosofia è già un tentativo di superare l'umano, inteso come homo faber, inteso come soggetto che vuole dominare il mondo. Anche questo è un tentativo di superare una logica, che è quella dell'homo faber, dell'umanità. E mi sembra, quindi, che questo problema anche del transumano, del superamento dell'umano, dovrebbe mettere a fuoco anche questo aspetto. Non si tratta soltanto di un problema tecnologico, ma anche di un problema di mentalità. perché noi possiamo anche trasformare il nostro corpo, costruire un siborg in cui andare a vivere, però non è sufficiente questo per parlare di una vera e propria svolta. Bisogna vedere con che logica poi noi potremmo vivere dentro questi nuovi corpi. Se la logica è la stessa, è la stessa dell'homo faber, di un uomo che vuole semplicemente dominare il mondo, tutto sommato sarebbe un cambiamento puramente estetico. Cioè, tutto sommato, non cambierebbe poi molto. La questione fondamentale, secondo me, è quella di vedere se c'è una trasformazione anche del nostro modo di pensare. Una trasformazione della nostra prospettiva, una periagogè, come la chiamava Platone. In questo caso, in questo caso, dobbiamo dire che la filosofia si occupa proprio di questa trasformazione. e dovremmo dire che l'antropologia filosofica andrebbe esattamente in questa direzione. Un superamento dell'umano nel senso di un superamento della visione del mondo dell'homo faber. Quindi, di un superamento di una concezione volta al dominio e alla sottomissione del mondo e della natura. Qui, secondo me, sarebbe interessante vedere se si arriva a determinare o meno una svolta. E la filosofia, in molti dei suoi interpreti, ha proprio tentato di promuovere un processo di trasformazione che va in questa direzione. Questo mi pare che mi era venuto in mente sentendo le tue parole. Per riprendere un po' il discorso di ieri, prima di iniziare, volevo sapere se c'era qualche elemento, non so, qualche spunto, qualche richiesta di chiarimento ulteriore, qualche domanda per, prima di iniziare, di proseguire un po' la discussione che abbiamo fatto, che abbiamo iniziato ieri. Altrimenti inizia. Se c'è qualcuno che ha qualche spunto da buttare lì prima che vada avanti, può iniziare anche adesso. Intanto mi fermo un momento. bene, allora, io riprendo proprio da una domanda che invece mi era stata fatta ieri, non mi ricordo più, scusate, il nome, però ho un po' ripensato le domande che mi avete fatto e parto un po' da questa, che riguardava il discorso se effettivamente, cioè la critica che di solito viene fatta all'antropologia filosofica di Scheller è quella di non preoccuparsi delle fondamenta biologiche della sua concezione dell'umano, quindi si sarebbe un tentativo di definire l'uomo soltanto da un punto di vista dello spirito, in rapporto allo spirito, dimenticando poi il suo radicamento biologico. Ecco, è chiaro che un tentativo di questo tipo non funzionerebbe, cioè non starebbe in piedi. A mio avviso ci sono delle possibilità di leggere l'antropologia filosofica non soltanto in Plesner e in Ghele ma anche in Scheller che invece vanno in direzione di una fondazione anche dal punto di vista biologico, cioè di un radicamento di questa costruzione anche da un punto di vista biologico. e uno dei, a parte il fatto che come dicevo già ieri è una costruzione che ha una pretesa di, sì, il titolo è la posizione dell'umano nel cosmo, però già nel titolo ci sono alcuni termini molto importanti. Posizione, Stellung, non è un termine a caso, è un termine che potremmo tradurre alla Plesner con posizionamento, con posizionamento, cioè la questione fondamentale è un posizionamento a vero e proprio, non è semplicemente io adesso sono qui seduto sulla serie e basta, no, io mi posiziono nel mondo, quindi l'umano si posiziona nel mondo, quindi è un concetto da intendere in senso dinamico, non statico, statico, cioè l'uomo non è che è posizionato una volta per sempre nel mondo, l'umano si posiziona, si posiziona nel mondo e può anche non posizionarsi, perché uno potrebbe, sembra una cosa banale, ma legge questo titolo, dice il posizionamento dell'umano nel cosmo, va bene, ma cosa succede se non c'è il posizionamento? È possibile? Sì, è possibilissimo, è possibile, è una cosa di cui abbiamo assolutamente esperienza e di cui c'è già diciamo moltissimo materiale, è possibile che l'umano non si posizioni nel cosmo, che l'umano non si posizioni nel cosmo, e cosa succede in questo caso? Beh, la schizofrenia, uno schizofrenico è un essere umano che non si posiziona nel mondo, che non ha gli strumenti per posizionarsi nel mondo, tutta la psicopatologia fenomenologica, perché parte da Max Scheller? Perché essenza e forma della simpatia diventa il punto di riferimento di Kurt Schneider che abbandona, cioè appena si fa il dottorato di psicologia si precipita a Colonia per studiare con Max Scheller e fonda assieme a Calli Aspers tutta la psicopatologia. c'è anche da questo punto di vista è molto interessante i primi scritti di Scheller sono nelle prime formulazioni era gli idoli dell'autoconoscenza l'altro il risentimento il sottotitolo è bellissimo psicopatologia della cultura sapete dove viene pubblicato? viene pubblicato in una rivista assieme a degli articoli di Calli Aspers su problemi di psicopatologia perché l'interesse originario di Scheller che all'inizio si era iscritto a medicina sia a Monaco sia a Berlino all'inizio si era fatto vari passaggi avanti e indietro fra filosofia e medicina quindi il suo interesse anche all'inizio era per la medicina l'interesse di Scheller era per la psicopatologia della cultura cioè lui considerava la possibilità che anche non soltanto gli individui singoli ma anche le società potessero essere psicopatologiche che ci fossero dei problemi di psicopatologia non soltanto a livello individuale ma anche a livello collettivo cosa che mi sembra abbastanza interessante cioè anche le società poi abbiamo visto con il nazismo le masse del novecento cioè questo problema che ci siano delle forme di deformazione del principio di realtà e di oggettività delle forme anche che disturbano la prospettiva a livello di massa mi sembra molto interessante il problema del risentimento che viene posto da Scheller Scheller diventa famoso essenzialmente attraverso questo articolo che scrive sul problema del risentimento viene descritto da Scheller come una forma di deformazione a livello sociale che ha un effetto dirompente in senso negativo a livello sociale fra l'altro oggi questo problema dell'invidia del risentimento è studiatissimo in sociologia ci sono molti studi che vanno in questa direzione per mettere proprio in luce come oggi il problema dell'invidia del risentimento giochi un ruolo fondamentale nelle dinamiche della psicologia di massa oggi noi siamo la società dell'invidia perché siamo una società massificata di uguali tutti quanti guardiamo l'erba più verde del nostro vicino perché siamo tutti diventati molto più uguali mentre invece in una società feudale è chiaro che il contadino non guarda quanto con invidia il castello del suo re o del suo feudatario perché c'è una distinzione sociale per cui non c'è invidia del contadino nei confronti del castello del proprio sovrano perché lì c'è una distinzione sociale l'invidia sociale nasce in una società come la nostra ecco quindi c'è all'inizio questo problema che affascina Scheler e che mi sembra molto interessante e dietro la sua riflessione secondo me c'è questa tesi fondamentale che il posizionamento è una questione tipicamente umana cioè di un essere come dicevo ieri che viene al mondo senza aver finito di nascere io adesso non so se ci sono degli studi sulla possibilità non so che ad esempio uno scimpanzé possa essere schizofrenico non mi esprimo perché non ho le competenze per esprimermi da quanto ne so io mi pare che non abbiano fatto che ci siano dei risultati in questa direzione però intuitivamente verrebbe da pensare che un problema come quello della schizofrenia sia qualcosa di tipicamente umano cioè sia un problema che si verifica per un essere che non ha questa rete automatica che gli viene offerta dall'istinto come spesso succede in un animale che viene al mondo avendo già finito di nascere ieri faccio l'esempio del puledro che viene al mondo ed è in grado subito di mettersi in piedi di camminare e di rapportarsi in maniera corretta col proprio ambiente l'umano non è in questa situazione viene al mondo e non è in grado di mettersi in piedi di camminare nel giro di pochi secondi non è in grado neanche di gestire le proprie emozioni da solo per imparare a gestire le proprie emozioni ha bisogno di un contatto con la madre con i genitori con la famiglia ha bisogno di imparare come si gestiscono queste emozioni se c'è qualcuno che non glielo insegna lui non sarà in grado di impararlo vi ricordate quel film di Truffaut il ragazzo selvaggio era un ragazzo di 13 anni che è stato ritrovato nei boschi della Francia meridionale nel 1800 ed è diventato un po' un caso emblematico è stato portato a Parigi è stato fatto visitare dei maggiori psicologi del tempo e gli avevano diagnosticato idiosia cioè diciamo questo qui è un idiota un idiota non sa parlare non sa esprimersi correttamente non è in grado di interagire con noi finché c'è un medico di provincia Itard che avanza un'ipotesi diversa dice no questo qui non è un idiota è una persona a cui è mancato il contatto sociale essendogli mancato il contatto sociale non è stato in grado di compiere quello che noi chiamiamo il salto verso il pensiero simbolico si prende cura di questo ragazzo scrive questi due rapporti che sono oggi leggibili da chiunque sono fra l'altro molto interessanti perché hanno uno spessore filosofico e narrano del suo tentativo fallito di insegnare a questo ragazzo a parlare questo ragazzo non sarà mai in grado di parlare essendogli mancato in un periodo fondamentale della sua esistenza dai 3-4 anni fino ai 13 il contatto con la società con le relazioni sociali con l'emotional sharing di Tomasello non si compie questo salto non c'è posizionamento o meglio c'è un posizionamento a livello del sé corporeo perché è chiaro che questo ragazzo per sopravvivere se è riuscito a sopravvivere fino a 13 anni vuol dire che è in grado di procacciarsi il cibo di ripararsi dal freddo e quindi in qualche maniera di sopravvivere quindi c'è un posizionamento minimo corporeo nello schizofrenico diciamo la situazione è molto più complessa perché manca questa capacità di posizionarsi e quello che viene a mancare è qualche cosa di fondamentale cioè la capacità di percepire il piano espressivo della vita una delle cose non so se voi avete letto il diario di una schizofrenica un testo di questa psicoanalista francese degli anni 60 mi pare che è stato scritto che è stato un best seller si è fatto anche lì è venuto fuori un film in italiano e io consiglio di leggerlo è un libro che si legge in un paio di ore è veramente molto semplice è scritto anche molto bene però fa capire come vede il mondo una schizofrenica lei descrive questa sua amica a venirgli avanti questa sua amica dell'infanzia che gli viene avanti sa che quella è la sua amica però non riesce più a comprendere i suoi movimenti i suoi gesti le sue espressioni la vede venire avanti come un robot come una marionetta che viene con dei movimenti meccanici non è più in grado quindi di distinguere quello che ieri abbiamo chiamato vi ricordate laib e kerper cioè questa distinzione è fondamentale alla base di tutta la fenomenologia della corporeità il laib il corpo vivo e il kerper il corpo inanimato lo schizofrenico non è più in grado di cogliere l'espressività del laib lo coglie come un corpo vede un gatto e non lo vede come un essere animato non è più in grado di cogliere l'espressività della vita gli mancano gli strumenti per cogliere l'espressività della vita il posizionamento nel mondo avviene in primo luogo attraverso questa capacità di porsi in contatto con il piano espressivo della vita e l'antropologia filosofica si fonda a un livello biologico proprio su questo dato perché il problema dell'espressività non è un problema legato soltanto all'umano Darwin sapete benissimo che ha scritto un libro sull'espressività fra l'altro estremamente interessante e come al solito dobbiamo dire anche qui era stato in grado di cogliere un argomento veramente decisivo era andato molto più avanti degli altri e anche oggi io ritengo che ancora oggi il tema dell'espressività non sia valutato nella giusta misura ancora oggi è un tema sottovalutato è un tema sottovalutato per cui a quella domanda io risponderei con un invito a mettere a fuoco il problema mettere a fuoco meglio il problema dell'espressività la teoria dell'espressività perché la teoria dell'espressività è un problema che riguarda tutti gli esseri viventi tutti gli esseri viventi io sono sicuro che il Monte Pelmo è espressivo sono rimasto per molto tempo ad osservarlo oppure non so che il Vesuvio sia espressivo per rimanere un pochettino più vicini è innegabile quanto è bello al tramonto o all'alba vedere queste montagne cioè una montagna può essere espressiva quindi anche un oggetto inanimato può essere espressivo su questo non c'è dubbio però è anche chiaro che un essere inanimato non è in grado di interagire con l'espressività soltanto un essere umano cioè soltanto un essere vivente è in grado di interagire con l'espressività e ogni essere vivente ha la sua nicchia ecologica ha cioè un suo ambito di rilevanza espressiva vi ricordate Jakob von Hükskul che fra l'altro era venuto qui a Napoli a studiare e lui si era occupato della rilevanza espressiva della zecca aveva scoperto che la zecca che è sorda che è cieca che non non ha quasi nessuna capacità percettiva però è bravissima nel fare una cosa che penso che nessuno di voi riesca a fare cogliere le variazioni di temperatura anche a metri di distanza proprio se non so passa un topo a qualche metro di distanza la zecca è in grado di cogliere questa variazione di temperatura qualcuno di voi è in grado di farlo? non lo so io non sono capace la zecca è in grado al buio sarebbe in grado di cogliere la variazione di temperatura di un mammifero sangue caldo che gli passa sotto il rato dell'albero però è l'unica cosa che fa l'universo di questo essere vivente è altrimenti buio l'unica espressività l'unica spiraglio che riesce a percepire è questo perché? perché per lei è fondamentale perché la zecca si riproduce proprio cadendo nel momento giusto su un mammifero sangue caldo che gli passa sotto l'albero per cui per lei è fondamentale questa capacità noi naturalmente e per fortuna abbiamo una gamma espressiva molto più ampia e quindi per utilizzare un termine dell'antropologia filosofica fortunatamente ci posizioniamo non nella unweltgeschlossenheit ma nella Weltoffenheit e quindi siamo in grado di aprirci al mondo questo è un dato importante però si radica sul momento biologico dell'espressività ha un suo fondamento un suo radicamento su questo momento dell'espressività l'espressività è un tema che aveva affascinato Scheler e lui ne discuta ampiamente in questo testo che oggi è considerato forse il testo più cioè che oggi attualmente è il testo più studiato di Scheler non è la posizione dell'umano nel cosmo ma è essenza e forme della simpatia oggi è il testo più studiato di Scheler in cui c'è anche una teoria dell'espressività questa teoria dell'espressività però è una teoria come al solito molto impegnativa nel senso che Scheler la sviluppa portandola fino alle estreme conseguenze gli dà una connotazione anche metafisica fra virgolette con metafisica io intendo metta in luce le conseguenze ultime questo per dire è che ognuno di tutti i filosofi se mettono in evidenza le conseguenze ultime sono metafisici in questo senso anche quelli che dicono di non essere metafisici che cosa è successo? è successo che è attraverso questa teoria dell'espressività o meglio della possibilità di percepire direttamente il piano espressivo dell'altro che Scheler ha fondato tutta quella teoria della percezione dell'altro che oggi sta avendo così tanto successo ieri parlavo di Gallagher Zavi e dei maggiori studiosi di fenomenologia che fanno riferimento oggi come oggi direttamente a Scheler su questo punto percezione in contrasto con la teoria e la teoria della simulazione vengono criticate ambedue e come alternativa viene proposta questa tesi della possibilità di percepire direttamente l'espressività dell'altro io nel sorriso dell'altro percepisco immediatamente la sua felicità non ho bisogno di compiere un ragionamento per analogia questa tesi che viene ripresa anche nel non so se ne ho parlato anche ieri nella tesi di dottorato di Edith Stein era presente già nella prima edizione del 1913 ecco questa tesi però si regge in piedi se dietro c'è un presupposto che ci sia una grammatica che ci sia una qualche cosa che ci consente di leggere l'espressività dell'altro e questa tesi viene appunto esplicitata da Scheler nell'essenza e forma della simpatia in cui si afferma che esiste una grammatica universale dell'espressività io preferirei parlare di grammatiche al plurale dell'espressività che riguarda non soltanto l'essere umano ma tutti gli esseri viventi un'ape che che riesce che riesce a impollinare un fiore o che interagisce con un altro essere vivente lo fa oppure una vespa che punge il bruco in un determinato punto immobilizzandolo senza farlo morire per poi iniettare dentro le sue larve il famosissimo episodio che ha fatto diventare ateo darwin darwin studiando questo fenomeno ha perso la fede in dio e che poi è stato ripreso e studiato da Bergson da Simmel e da Scheller quindi si vede che è stato un caso abbastanza interessante perché come fa la vespa capire il punto preciso in cui colpire senza far morire il bruco perché se fa morire il bruco queste larve non hanno carne fresca dopo da mangiare perché dopo si riproducono all'interno del bruco divorandolo dall'interno e mangiando lui rimane vivo mangiando carne fresca se muore invece non hanno a disposizione carne fresca ma come fa la vespa a sapere esattamente queste cose e la tesi che viene portata avanti da Scheller è che ci sia una grammatica universale dell'espressività ora il termine grammatica universale è un termine che a me sembra un po' problematico come dicevo prima parlerei di grammatiche universali al plurale cioè oppure le varie vie addirittura universali cioè però delle grammatiche come anche noi se guardiamo non so il linguaggio umano non è che possiamo parlare di una grammatica universale uguale per tutti però c'è qualche cosa che lega tutti i linguaggi possibili di tutte le nazioni del mondo alla base c'è una struttura logica c'è qualche cosa che permette che dopo ci siano varie grammatiche che ci siano varie grammatiche ecco qualcosa di simile esiste esiste anche per l'interazione fra i diversi esseri viventi questa è la grande intuizione di scela che va sotto il nome di unipatia eins fühlung questo termine che viene introdotto nella seconda edizione del 1923 quindi nella seconda edizione nella prima invece mancava non c'era questo termine eins fühlung sarebbe uno eins è uno e fühlung possiamo tradurlo con pathos patia quindi unipatia che è diversa dalla empatia ein fühlung senza la S quindi si fa spesso confusione fra questi due termini perché c'è questa S in mezzo che quindi è una leggera differenza in realtà è una grande differenza perché sono due cose molto diverse nell'unipatia io sono uno con l'altro c'è una capacità di entrare in contatto con l'altro perché? perché abbiamo una base comune c'è una radice comune il fatto che siamo tutti quanti membri della stessa al leben della stessa vita cosmica che quindi riusciamo a entrare in contatto fra di noi se non ci fosse questa radice comune non riusciremo a interagire questa è questa grande intuizione un'intuizione che diciamo viene sviluppata anche da altri autori proprio secondo me si può rintracciare anche in Bergson per rimanere un autore che era stato citato per certi aspetti ieri ma che è ripresente anche nel dibattito contemporaneo sotto altri nomi anche proprio nella prospettiva ecologica ci sono alcuni autori che vanno in questa direzione ecco c'è un autore però molto conosciuto che tutti voi sicuramente conoscono che ha lavorato in maniera molto concreta in questa direzione cercando di classificare delle forme universali di espressività e il famoso psicologo Eckman che ha individuato all'inizio sei forme fondamentali dell'espressività e la sua tesi è che nell'umano esistono delle forme elementari basiche del modo di esprimere sei emozioni fondamentali per cui non so la paura in tutti gli esseri che sia un cinese un giapponese un indonesiano un indigeno che vive nell'Amazzonia tutti quanti esprimeranno la paura con una certa modalità delle labbra del viso e via dicendo e quindi ha sviluppato questa teoria inizialmente erano dopo le ha sviluppate cioè se ne sono aggiunte altre però adesso a noi non interessa tanto andare a vedere quante sono queste espressioni universali ma un altro aspetto questa teoria di Eckman è stata anche criticata nel senso che alcuni hanno messo in discussione che questa tesi di Eckman sia valida perché? perché hanno detto ma sì è vero che tutti quanti abbiamo uno stesso modo di sorriso detto in maniera molto banale tutti quanti quando sorridiamo mettiamo incurviamo verso l'alto le labbra mentre invece quando c'è la delusione verso il basso ci sono delle espressioni diciamo inconfondibili che apparterebbero a tutti gli esseri umani ed è un po' strano che tutti quanti facciamo così no? come mai succede questo? perché in Cina non mettono che fanno le labbra in giù invece di in su tutti quanti abbiamo un modo di esprimerci come se avessimo una grammatica universale un po' la Scherer questa tesi qui ecco mi sembra che sia un po' un banco di prova per capire se questa tesi funziona questa tesi in realtà è sotto attacco oggi nel senso che alcuni studiosi hanno messo in discussione questa tesi affermando che non è poi esattamente questo che si verifica perché perché in realtà è vero sì che non so nel modo di sorridere tutti quanti mettono le labbra cioè inarcano le labbra verso l'alto no? però se tu guardi bene non so un giapponese lo farà in maniera diversa da un pelli rossa o da un africano o da un francese per cui ci sono delle variazioni in realtà ecco a me sembra che però queste critiche per quanto documentate e anche molto interessanti più che distruggere il presupposto di partenza permettano di svilupparlo in una maniera molto interessante cioè che cosa significa questo? prima di tutto significa che lo schema generale potrà forse dovrà essere semplificato ancora di più diciamo che forse nella maniera che era stata individuata da Ekman era ancora un po' troppo ricco per cui se vogliamo veramente arrivare ad uno schema universale che tenga presente la maniera di sorridere di un giapponese di un pelli rossa di un francese e di un altro non possiamo andare molto più in là di delle labbra che si inarcano verso l'alto e poco altro ecco sì ecco diciamo arriviamo lì arriviamo lì non molto di più ecco non molto di più non molto di più fratto anche molto interessante che poi dopo perché si è sviluppato vuol dire che funziona quindi no? sì sì ecco quindi il fatto anche questo va un po' in questa direzione quindi queste critiche hanno portato e stanno portando a una semplificazione estrema di questo schema individuato da Eckman però ci possono suggerire almeno a me è venuta in mente anche un'altra ipotesi tenendo presente proprio questo discorso che l'essere umano è plastico che l'essere umano nasce e viene al mondo senza aver finito di nascere allora che cosa si potrebbe ipotizzare? la mia tesi è che l'espressività sia una questione fondamentale che è stata finora sottovalutata nel dibattito culturale perché ha a che fare anche col nostro processo di individuazione e di singolarizzazione per cui è vero sì che noi veniamo al mondo e in poco tempo un neonato è in grado di riconoscere il sorriso della madre nel senso di Ekman quindi di arrivare a capire lo schema generale il contesto di questa dell'espressione che corrisponde alla felicità no? e questo è in grado di farlo in un tempo ragionevolmente breve non immediatamente perché c'è anche lì è necessario un processo antropogenetico per cui si sta formando sta continuando a nascere per usare il termine di prima no? però è chiaro scusate un attimo che non lo fa attraverso un ragionamento per analogia perché come fa il neonato a vedere che il sorriso della madre è uguale al sorriso del proprio viso c'è la famosa tesi dello specchio nascosto segreto nascosto nel pannolino cioè ogni neonato avrebbe uno specchio magico nascosto nel pannolino finora nessuno scienziato è riuscito a trovarlo che quando la madre non lo guarda lui si guarda allo specchio studia la sua espressione vede che quando sorride in una certa maniera è felice poi vede la madre nasconde lo specchio magico che sparisce vede la madre fa un ragionamento per analogia e quando vede che la madre sorride dice ecco io quando faccio quel movimento con le labbra sono felice quindi mia mamma è felice ecco finora comunque questo specchio magico dagli scienziati non è stato trovato quindi quando lo troveremo potremmo essere d'accordo con questa teoria dell'analogia però ritornando a Eckman è chiaro che all'inizio proprio disponendo di una grammatica universale o di grammatiche universali di grammatiche dell'espressività il neonato è in grado di cogliere nel sorriso della madre fra l'altro il neonato coglie nel sorriso della madre prima di tutto che lui è importante perché capisce che la madre sta sorridendo ed è felice perché lui esiste quindi questo ha una conferma psicologica fondamentale anche per l'esistenza del neonato bisognerebbe chiedersi che cosa succede quando la madre non sorride al neonato quali sono le conseguenze sul sviluppo poi psichico di questo neonato comunque diciamo il neonato coglie questo sorriso e così diciamo che nel giro di qualche anno questo essere umano sarà in grado di riconoscere queste emozioni fondamentali lo schema di queste emozioni fondamentali descritte da Ekman e sarà in grado anche di replicarle sarà anche lui in grado di essere arrabbiato in una certa maniera di essere di esprimere la propria felicità in un'altra quindi di esprimere e di riconoscere queste espressioni però lo farà in maniera impersonale in maniera generica allora la mia ipotesi è questa che all'interno di questo schema complessivo ognuno di noi sviluppa un processo di singolarizzazione metabolizzando all'interno di questo contesto un suo modo particolare di sorridere per cui è chiaro che sarà possibile individuare ad esempio che non so nella cultura giapponese ci saranno dei tratti simili perché la cultura giapponese ha metabolizzato all'interno uno schema generale di Ekman un modo diciamo di sorridere alla giapponese dopodiché ogni giapponese sarà in grado a sua volta di metabolizzare un suo modo unico e inconfondibile di sorridere e su questo io penso che ognuno di noi può fare può dire e avere una sua posizione perché è una cosa di cui facciamo esperienza in continuazione io penso che se voi avete una persona cara una persona che vi è vicina un amico un familiare sapete benissimo e siete in grado di riconoscere che questa persona ha un suo modo impercettibile non so di muovere il labbro in una certa maniera di sorridere che appartiene soltanto a quella persona lì quindi ogni ognuno di noi poi riesce a elaborare e a metabolizzare una sua espressività inconfondibile cioè riesce all'interno di questo schema generale a compiere un percorso di singolarizzazione che lo porta a esprimersi in una maniera inconfondibile per cui voi dite ecco questo modo di fare è tipico di Giovanni o questo questo sorriso è tipico di Patrizia e voi quando vedete quel sorriso di Patrizia sapete che è soltanto Patrizia in tutto il mondo che ha quel modo particolare di sorridere o quel modo particolare di fare quel gesto con la mano o di arrabbiarsi in una certa maniera cioè ognuno di noi sviluppa un suo particolare modo di esprimersi ed è particolare perché corrisponde alla sua individualità quindi il nostro processo di singolarizzazione avviene attraverso un modo particolare di esprimerci questo è vero anche per l'arte basta vedere poche pennellate per capire che quello è Van Gogh cioè c'è uno stile inconfondibile in Van Gogh basta pochissimo però penso che si potrebbe fare proprio uno studio scientifico dire che dopo non so venti pennellate noi siamo in grado di riconoscere che quello lì è lo stile tipico di Van Gogh oppure un altro potrebbe essere non so di Picasso o di Botticelli Botticelli forse è un po' più difficile però diciamo che ogni autore ha un suo stile inconfondibile un suo stile di esprimersi un suo modo di esprimersi che diventa perfettamente riconoscibile e noi siamo quindi un modo di esprimerci la nostra singolarità è un modo di esprimerci è strettamente correlata a questa capacità di esprimerci quindi questo schema di Ekman vale soltanto su un piano diciamo così impersonale ma poi c'è un processo in cui ognuno di noi interpreta questo schema generale in una maniera particolare quindi c'è un po' questo questo aspetto ecco penso di avere ancora dieci minuti ce li ho no? sì dieci minuti un quarto d'ora vediamo mi manca questo volevo affrontare nel tempo che mi rimane quest'ultimo punto che è quello dell'emotional sharing e di Tomasello di cui avevo fatto un accenno anche ieri vi è un'altra sì scusate faccio un'aggiunta al discorso che ho fatto finora di solito le teorie della intersoggettività finora si si fondano quelle che almeno che mi sembrano più convincenti si fonda per esempio c'è Fuchs in Germania Thomas Fuchs che ha lavorato molto in questa direzione si fonda su questo concetto di transcorporeità che è un concetto poi ripreso da Merleau-Ponty per cui alla fine di tutto ci sarebbe una dimensione corporea che non è soltanto individuale ma che si posiziona attraverso l'interazione con le altre corporeità e questo sarebbe il fondamento della teoria della intersoggettività a me sembra che sia fondamentale arrivare fino a quel punto lì però io mi spingerei ancora oltre cioè il discorso che voglio dire è questo com'è possibile che due corpi riescano a interagire perfettamente com'è possibile che noi riusciamo a fare in modo che i nostri corpi si interagiscano e si riconoscano e che il movimento del tuo corpo come descrive Merleau-Ponty possa avere immediatamente una ripersurzione sul movimento del mio corpo ecco la cosa che mi lascia perplesso è che Thomas Fuchs ma anche Zavi Gallagher tutti questi grandi studiosi di fenomenologia si fermano qui e sono loro che non fondano la corporeità sulla biologia cioè non si pongono questo problema se esiste una grammatica dell'espressività che permette questo è come se avessero paura di affrontare questo problema e si fermano lì Thomas Fuchs dice beh io sono uno scienziato non mi avventuro in questa tesi cioè scelgo di non parlare di questo argomento perché non mi riguarda è una questione che è al di fuori della mia portata tenete presente che in Merleau-Ponty questo problema non è così semplice perché Merleau-Ponty scrive e affronta anche non so questo tema del mondo e questa dimensione anche biologica quindi in Merleau-Ponty non è del tutto escluso questo aspetto che invece viene neutralizzato nel dibattito attuale sulla teoria della intersoggettività quindi questo discorso che facevo prima secondo me potrebbe è il tentativo di vedere come fanno queste corporeità a interagire fra di loro hanno anche loro bisogno di una base cioè quando noi prendiamo il termine tedesco Leib Leib viene deriva dall'Eben vita e secondo me la traduzione propria è quella di corpo vivo corpo vivo è molto significativo che invece gli usserliani abbiano tradotto spesso in idee uno corpo proprio e non corpo vivo perché Ussel consensiva Leib come l'oggetto su cui io posso esprimere il mio dominio vi ricordate ieri dopo arriva uno che ha il Maddischian e dice beh forse è stato un po' troppo ottimista e quindi c'è questo atteggiamento però se noi parliamo di corpo vivo io vi pongo questa domanda è più essenziale è fondamentale corpo o vivo qual è il termine fondativo qual è quello che cioè questo corpo vivo risulta fondamentale perché è un corpo o perché è vita io diciamo propendo per pensare che lì la questione fondamentale sia la vita è la vita che fonda il corpo vivo non il corpo vivo che fonda la vita e la vita è un concetto quindi diciamo che richiama questo tema dell'espressività però questa diciamo che è una una riflessione che butto lì in maniera provocatoria senza aver la pretesa di di dare una soluzione definitiva la butto lì solo come un interrogativo io stesso mi sto interrogando quindi non è che sia poi arrivato a una soluzione definitiva ma cos'è c'è di essenziale come quando Nietzsche afferma grad der Macht wille der Macht volontà di potenza qual è la questione fondamentale lui dice volontà o potenza e dice la questione fondamentale è la potenza non è la volontà in questo caso corpo vivo qual è la questione fondamentale mi limito solo a porre la domanda dopo la soluzione la date voi va bene adesso per ritornare all'altro punto che era quello di Tomasello e del emotional sharing avevo anche già detto ieri che è un tema a mio avviso affascinante perché lo ritroviamo emergere in diversi ambiti era presente nel nel testo di Scheller del 1913 se voi io non so contato cento no venti sicuramente termini Schelleriani con miteinander no miteinander erleben miteinander leben miteinander fühlen cioè perlomeno ce ne sono venti allora miteinander fühlen miteinander erleben cosa significa? significa una condivisione cioè è questo miteinander è un tentativo di mettere in evidenza che c'è qualche cosa che non si verifica da parte di un soggetto isolato ma è una una condivisione una condivisione e io vi do un consiglio se voi studiate Scheller sul concetto di persona fate attenzione al termine di atto l'atto è fondamentale per l'ontologia della persona di Scheller Scheller quando parla di persona afferma che la persona nella persona non c'è un una folzug una esecuzione dell'atto che sarebbe in tedesco l'espressione più comune un atto il folzien un atto possiamo dire viene eseguito attraverso un folzug un'esecuzione dell'atto Scheller non usa quasi mai questa espressione quando parla della persona dice sempre mit folzug co esecuzione cioè la tesi di Scheller è che una persona non esegue mai un atto separato dalle altre persone c'è sempre una una condivisione dell'atto c'è una una presenza dell'altro nell'esecuzione dell'atto ecco lo stesso per quanto riguarda la condivisione emotiva quindi è molto forte questa questa tesi in Scheller ma poi dicevo questo tema della condivisione emotiva è presente anche in altri ambiti per esempio nell'antropologia culturale abbiamo tutta una serie di studiosi di antropologia culturale che hanno posto al centro dello sviluppo dell'evoluzione umana che ha portato circa 80.000 anni fa a fare questo salto verso il pensiero simbolico proprio sulle pratiche di condivisione sarebbero queste che hanno determinato questo salto verso il pensiero simbolico e in Tomasello poi vi è in maniera ancora più esplicita la tesi che invece lui non si occupa di antropologia cioè non prende in considerazione quello che è successo 70 80.000 anni fa quando improvvisamente sembra che abbiano cominciato a costruire i primi oggetti simbolici questo 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 pezzo di ocra con questi segni che hanno trovato in questa bombos cave nel Sudafrica pare che risalga 70.000 anni fa sembra essere il primo oggetto simbolico che è stato trovato Tomasello si occupa invece di quello che succede nei primi mesi di vita di un neonato anche lì però c'è un salto verso il pensiero simbolico a un certo punto un essere umano che prima non parlava inizia a parlare si tratta quindi di un processo che ha dei punti di similitudine con quello dell'antropologia culturale che cosa succede che cosa permette a un neonato di iniziare a parlare ecco Tomasello prende in fa un esperimento osservando dei neonati di scimpanzè e dei neonati umani e meticolosamente analizza tutte le differenze tutte le diverse situazioni e la sua tesi fondamentale è che la divergenza tra lo sviluppo cognitivo di un essere umano e di uno scimpanzè si verifica in maniera diciamo evidente dopo il terzo mese di vita attraverso pratiche di condivisione emozionale di tipo cooperativo che portano l'essere umano a la prima diciamo caratteristica che lo individua è una diversa facoltà dell'indicare uno scimpanzè è in grado di indicare una banana per richiedere aiuto per dire voglio quella banana lì ma non è in grado di indicare una banana per offrirla ad un altro scimpanzè questa capacità di indicare qualche cosa per aiutare qualcun altro sembra che sia unica dell'animale umano questa è almeno l'ipotesi di Tomasello che sarebbe connessa a delle capacità delle pratiche di condivisione emotiva che hanno che seguono una logica di tipo cooperativo quindi questo sarebbe ciò che ha permesso all'umano di compiere il salto verso il pensiero simbolico se questo è vero allora diventa fondamentale per noi chiederci che cosa sono queste pratiche di condivisione emotiva perché ci troviamo di fronte a un problema centrale per la nostra esistenza queste pratiche di condivisione emotiva secondo Scheler sono alla base dell'ontologia sociale ontologia sociale sicuramente voi avete sentito parlare di we intentionality di intenzionalità collettiva Searle tempo fa ha scritto un testo in cui diceva che il problema dell'ontologia sociale deve essere completamente ripensato perché si fonda sul problema dell'intenzionalità collettiva tutto ha origine sul problema dell'intenzionalità collettiva con intenzionalità collettiva fino a qualche anno fa si intendeva la capacità di condividere intenzioni giudizi pensieri però nessuno si era posto il problema si era possibile anche condividere le emozioni cioè questa intenzionalità collettiva era molto razionalistica soltanto da poco tempo questo problema è stato esteso anche alle emozioni cioè ci si è posto il problema se l'ontologia sociale oltre a basarsi su di una condivisione di pregiudizi ad esempio si fondi anche su di una condivisione di emozioni se noi leggiamo il testo di Scheler del 1913 facciamo però una scoperta molto interessante che Scheler aveva fatto una analisi in cui aveva diviso i diversi sistemi sociali in base al modo di condividere le emozioni fa corrispondere alle diverse forme di condivisione emotiva quindi unipatia empatia simpatia amare d'odio diverse forme di unità sociale per cui all'unipatia corrisponde nell'umano ad esempio la massa e nell'animale il branco invece nell'empatia la capacità empatica quando noi riusciamo a condividere le emozioni in maniera empatica la tribù la comunità diciamo familiare originaria mentre la antipatia la simpatia antipatia la comunità sociale complessa e l'amare l'odio le fa corrispondere alla comunità personale alle comunità personali quindi c'è già un tentativo di fondare l'ontologia sociale sul modo di condividere le emozioni questa è una tesi molto forte perché dice quando noi mettiamo in comune le nostre emozioni e condividiamo le nostre emozioni stiamo costruendo ontologicamente qualcosa di nuovo che non è più un io e un tu ma diventa una unità sociale in cui non è uno più uno uguale due c'è una novità ontologica che si costruisce mettendo assieme questa condivisione emotiva per cui condividendo le emozioni noi costruiamo un'antologia sociale quindi c'è questa tesi che mi sembra molto interessante fra l'altro ci riporta e qui chiudo a una questione fondamentale che cose sono le emozioni che cose sono le emozioni le emozioni non sono qualche cosa mi pare che qualcuno di voi ha citato il concetto di atmosfera era lei sì ecco ecco le emozioni non sono qualche cosa di solito quando faccio questa domanda io ho come l'impressione che ognuno si guardi dentro di sé per cercare le emozioni dentro di sé come se le emozioni fossero una dimensione interna noi quasi tendiamo a pensare che le emozioni abitino dentro di noi no le emozioni sono qualche cosa che ci mette in contatto con l'esterno sono delle atmosfere sono dei flussi che ci mettono in contatto fra di noi quindi anche qui va ripensato va ripensato questo concetto di emozione non è qualche cosa di psicologico di soggettivo di interiore è la base del nostro posizionamento nel mondo e nelle relazioni con gli altri e qui mi fermo con un'ultima osservazione noi nasciamo condividendo le emozioni ma nasciamo soltanto nell'incontro con l'altro cioè non è un processo singolare noi rinasciamo nell'incontro con l'altro perché se è vero che noi veniamo al mondo senza aver finito di nascere per nascere per continuare a nascere dobbiamo trovare uno spazio al di fuori del nostro orizzonte autoreferenziale quindi al di fuori di noi per continuare a nascere dobbiamo uscire al di fuori di noi e questo spazio ci viene offerto dall'altro l'alterità l'incontro con l'altro è necessario perché soltanto l'altro ci offre questo spazio per continuare a nascere in questa maniera l'altro è il grembo extrauterino che ci consente di continuare a nascere mi fermo qui e ti lascio a palco di domande grazie di te qui questo ricchissimo questa relazione vorrei fare solo una piccola osservazione per quanto riguarda il concetto che hai menzionato e quel mitainanda in tedesco a differenza dell'italiano il concetto mitainanda esprime già in sé la reciprocità che a nanda è già mutuale quel mitainanda è un con un insieme in cui già si esprime la mutualità quindi ancora va bene interventi prego anzitutto grazie mille la mia più che altro una curiosità è una richiesta di chiarimento sulla teoria dell'espressività mi chiedevo se è possibile concepire l'espressività ad un livello per così dire zero e quindi ancora prima poi di entrare nel discorso sulle emozioni come un certo modo che l'oggetto ha di offrirsi al soggetto che conosce che si relaziona con questo oggetto e lo chiedo pensando prevalentemente all'idea dell'espressività come l'opposto della intenzionalità quindi un qualche cosa che viene dall'esterno e che non è invece la coscienza ad operare proiettandosi verso l'esterno e pensando anche alla nozione di percetto bersoniana ancora una volta ovvero l'idea che gli oggetti del mondo si offrano attraverso angolazioni differenti e ciascun individuo e ciascun essere vivente coglie determinati aspetti di un oggetto e non altri ma anche lo stesso individuo nel corso della sua vita può cogliere degli aspetti differenti questo mi pareva un po' contenuto nell'esempio della zecca un cane che passa sotto un albero offre alla zecca in questo caso di se stesso un aspetto specifico che è il cambiamento di temperatura e che è un invito in qualche modo lanciato all'altro essere vivente questo che viene in qualche modo inviato e colto dalla zecca altra è invece come dire l'espressività dello stesso animale dello stesso cane per un suo simile che non è un cambiamento di temperatura in questo caso ma è per esempio una interazione tra esseri della stessa specie e questo discorso si complica ulteriormente se consideriamo non un animale come il cane ma per esempio un oggetto come può essere un vaso di frutta che offre di sé due espressioni completamente diverse a seconda che lo si guardi per mangiarlo o lo si guardi per dipingerlo questo ecco era un po' la mia domanda perché a questo punto si delineerebbero anche poi tutta una serie di gradazioni dell'espressività e dei domini dell'espressività che andrebbero non dico catalogati o comunque però tenuti in considerazione come i diversi strati della realtà ecco quelli che Berson chiamava i piani di coscienza per l'appunto e un'ultima questione brevissima se così fosse cioè se la mia idea è in qualche modo supportabile tutto questo diciamo sono possibili espressività di un oggetto che hanno una loro validità come dire ontologica conoseologica ecco poi c'è però un'altra dimensione ancora che è quella di chi coglie delle espressività che non ci sono si è partito con l'esempio della schizofrenia lo schizofrenico non coglie l'espressività di un oggetto ma ad esempio il folle se prendiamo le definizioni di Pinel coglie un altro ordine di idee su un oggetto cioè ha proprio una comprensione degli oggetti che è alternativa e radicalmente differente rispetto a quella che noi considereremmo buona e condivisibile sì del senso comune queste erano le mie due domande riferite proprio alla nozione base di di espressività grazie il tema diciamo che si può ampliare sono diciamo d'accordo con le tue osservazioni mi vengono in mente diversi punti allora il primo è che nell'espressività non dobbiamo cogliere due movimenti c'è un movimento che parte dal fenomeno stesso perché è il fenomeno che si esprime e in questo caso è il fenomeno che si esprime e che si costituisce anche nell'esprimersi quindi si supera la distinzione fra Dinganzich e fenomen e non c'è più un diciamo così un'essenza dietro la fenomenologia è proprio questa è un tentativo di eliminare questo discorso di un Dinganzich che starebbe lì dietro ma di guardare come essenziale la manifestazione del fenomeno stesso cioè il fenomeno si costituisce nel modo in cui si esprime e si manifesta e qui naturalmente dobbiamo superare l'impostazione di Husserl che ha descritto questo problema soltanto oppure prevalentemente dal punto di vista di un soggetto intenzionale che illumina con la propria intenzionalità il mondo quindi con una direzione che parte dal soggetto verso il mondo se è vero che il fenomeno si manifesta noi dobbiamo presupporre una contro intenzionalità che parte dal mondo per cui è il mondo che ci illumina ci sono tutta una serie di termini in tedesco Offenbarung ad esempio rivelazione che vanno proprio in questa direzione cioè di una l'offenbarung è una intenzionalità che parte dall'altro che può essere una persona ma può essere anche un anche un fenomeno no? quindi non sono più io che intenziono un'altra persona ma è questa persona che si apre e si rivela a me in questa maniera se diciamo questa comunicazione funziona nella misura in cui io metto fra parentesi la mia intenzionalità oggettivante perché se io continuo a oggettivare questa persona il processo comunicativo si interrompe questa persona si chiude e non si rivelerà più per cui è molto importante tenere presente questi due aspetti che invece nella posizione usselliana sono un po' sbilanciati dal punto di vista di una intenzionalità che parte dal soggetto quindi questa è la prima cosa da fare e diciamo che tutta la fenomenologia francese non a caso è andata in questa direzione faccio riferimento all'ultimo non so a Marion per citare soltanto uno che ha costruito quasi tutta la sua fenomenologia proprio andando in questa direzione qui quindi questo è il primo punto l'espressività è da intendere in tutte e due queste prospettive non soltanto quella usselliana ma anche quella diciamo così alla francese dall'altra parte ed è già una questione molto importante poi c'è la gestate psicologhi allora la gestate psicologhi ha affrontato tutti questi fenomeni e è molto interessante perché ci dà molto materiale in questa direzione era molto interessata a tutte queste questioni è chiaro la gestate che cosa è una forma espressiva anche quella cioè quando si parla di affordance ad esempio di che cosa si sta parlando si sta parlando esattamente di queste questioni qui cioè mi pare che era Kofka che faceva che è stato un po' alle origini di questa teoria delle affordance e lui diceva ma noi dobbiamo pensare che il mondo che ci circonda è un mondo in cui gli oggetti esprimono delle richieste esprimono delle richieste anche questo è molto interessante e faceva tutta una serie di esempi in cui secondo me però c'era un problema che gli era sfuggito un problema che gli era sfuggito perché lui sentite fa questo esempio qui dice ad esempio sono fra l'altro esempi che mi hanno molto quando l'ho letto mi hanno fatto molto riflettere ma penso che anche tutti quelli che li hanno letti hanno avuto questa stessa impressione lui dice una maniglia dice afferrami è bellissimo tu vedi una maniglia e è come se questa maniglia ti invitasse ad afferrarla cioè tu vedendo quella maniglia in realtà vedi già o meglio io penso che se studiassero il nostro cervello vedrebbero che il nostro cervello mette in atto tutta una serie di pensieri per vedere come la mia mano potrebbe afferrare quella maniglia lì quindi il nostro cervello vedendo quella maniglia è già lì che sta lavorando per vedere i movimenti che dovrebbe compiere la mia mano per afferrare quella maniglia lì quella maniglia lì dice afferrami e io sono lì che cerco di capire come afferrare quella maniglia lì questo bicchiere d'acqua qui mi dice bevimi è un'offerta esprime una offerta che mi viene fatta rispetto a questa funzione e quindi il significato di qualche cosa è relativo a questa richiesta a questa esprimere un'offerta una richiesta e poi alla fine conclude in bellezza dicendo una donna dice amami una donna dice amami però lì il problema è che una donna dice amami esprime una richiesta che secondo me ha un livello diverso da quello di una maniglia che dice aprimi cioè lì c'è uno spostamento di piano nel senso che è vero sì che però la maniglia è già lì formata quando un essere umano invece ti esprime una richiesta di questo tipo lui in realtà non ti dice afferrami in una certa maniera ti dice cos'è che diciamo noi perché è vero che le cose funzionano così però chiediamoci veramente che cosa ci sta dicendo una persona quando ci dice amami secondo me questa persona che ci dice amami ci sta facendo una richiesta ben precisa ed è qual è questa richiesta secondo me ci chiede una cosa di questo tipo dammi quello spazio che mi permette di continuare a nascere cioè offrimi quel terreno quello spazio che la mia fame di nascere del tutto sta cercando è questo che ci dice però questa è una richiesta etica in un certo senso che non è da porre sullo stesso piano della maniglia che mi dice aprimi quindi secondo me sul piano dell'espressività come giustamente hai detto tu bisognerebbe riconoscere dei livelli differenti per cui c'è il cane che passa sotto la zecca e che esprime una variazione di temperatura rispetto all'ambiente questo piano naturalmente è un piano biologico differente dal oggi guardavo ho fatto una passeggiata stamattina preso sul lungomare c'erano c'è una spiaggetta piccolissima con un po' di sabbia in cui naturalmente tutti quanti i padroni portano i loro cani a giocare con questa sabbia è chiaro che questo cane qui avrà una sua espressività completamente diversa nel gioco che fa con il suo padrone nel rotolarsi nella sabbia che è diversa da quella espressività che fra l'altro lui neanche controlla perché si esprime semplicemente a livello biologico passando sotto il ramo e determinando una variazione di temperatura rispetto all'ambiente quindi abbiamo diversi livelli di espressività fino a quello di una persona che ti dice ah ma lì siamo proprio su un piano etico quindi c'è anche un piano etico dell'espressività non c'è soltanto un piano biologico per cui vanno anche distinti questi diversi livelli io procedo come al solito per associazioni di idee mi perdonerà se non sono valide o non sono interessanti la prima cosa che volevo dire in realtà è questa a proposito dell'intenzionalità collettiva è vero sicuramente insomma quello che dici però forse all'epoca si cominciava a parlare di queste cose per esempio Le Bon il libro sulla psicologia delle masse è precedente ho controllato adesso sul telefonino d'Orupesto nel 1895 quindi forse l'idea che le masse poi possano essere unite anche da emozioni magari indotte attraverso persuasioni malvagie o comunque attraverso la propaganda eccetera forse si cominciava a farsi strada come un problema abbastanza rilevante appunto delle società di massa questa è una piccola osservazione non so se è il caso se ha un senso rispetto al discorso che faceva lei poi un paio di osservazioni rispetto a Leib e Körper allora questa è veramente un'associazione di idee secondo Bruno Schnell nel mondo nel mondo americo non c'è una concezione non c'è una concezione unitaria di corpo e tant'è vero che non c'è neanche un termine per definirlo ma l'unico termine è quello che è l'equivalente di cadavere in questo momento non mi ricordo il ecco quindi diciamo così mentre invece la vita quella che va via la psiche più che la psiche cioè non è quella che può essere la psiche ma appunto è il soffio vitale quindi in qualche modo c'è un'assonanza diciamo con questa con questa distinzione invece la cosa su cui volevo chiederle più in particolare una magari un commento se è il caso se lo trova opportuno è un confronto tra espressività ed immaginazione ma espressività qual è il termine tedesco per espressività Ausdruck 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 Barkeit si parla anche di espressività però è un termine introdotto nel tedesco il termine originale tedesco deriva da Ausdruck quindi quello che noi chiamiamo espressività in italiano sarebbe Ausdruck semplicemente Ausdruck ok perché c'è un po' una insomma è un po' diversa la cosa questa è la domanda allora lo schizofrenico non vede un live ma vede un corpo cioè vede una potremmo dire che vede una sorta di automa privo di espressività un robot no un automa un robot allora io ho fatto una un'associazione mentale con questo con l'immaginazione in quanto elemento di complicità senza il quale diciamo la forma artistica del teatro non potrebbe compiersi cioè il teatro crea una finzione scenica che non riproduce ovviamente nell'interezza materialmente nelle scenografie nei movimenti nei come dire nei dialoghi non riproduce interamente la vicenda ma fa appello appunto alla complicità dello spettatore a quella che Corrish chiamerà la sospensione dell'incredulità per cui Shakespeare potrà dire immaginatevi invece che su questo palchetto si avanzino eserciti eccetera questo è un elemento fondamentale però noi abbiamo anche non abbiamo soltanto Shakespeare che dove sia il prologo dell'Enrico VI mi posso sbagliare abbiamo anche Tolstoi e abbiamo anche Natasha che va a teatro va a sentire una cantante lirica e siccome non è preparata a quella forma d'arte e quindi non è preparata a offrire la sua complicità vede una sorta di marionetta che si muove sulla scena e per lei senza praticamente senza senso allora mi chiedevo se non si potesse fare un parallelismo tra o instaurare una connessione tra espressione espressività e immaginazione nella peculiare forma di complicità dello spettatore diciamo così di contributo che lo spettatore dà ad ogni forma diciamo al teatro ma poi ad ogni forma d'arte perché come dire questo si potrebbe anche applicare alle parole di un romanzo che private di questa complicità potrebbero sembrare semplicemente dei lembi che si susseguono senza senza sì che mi dispiace tanto che questa sia l'ultima lezione perché sono veramente belle queste cose che ci sta dicendo la ringrazio allora sì io le do ragione nel senso che è chiaro la psicologia di massa nasce molto prima io mi limitavo soltanto a Searle e a questo dibattito che c'è stato in ambito anglosassone sul concetto di we intentionality e la cosa che mi ha molto meravigliato è che proprio nel momento in cui tutti parlavano di emozione loro erano rimasti un pochettino indietro cioè era di moda perché loro invece non se ne sono occupati per cui la mia obiezione era all'origine di questo dibattito dell'intenzionalità collettiva in un ambito molto preciso dopo è chiaro che quelle osservazioni che facevi tu hai perfettamente ragione cioè la psicologia di massa è stata studiata forse ma anche forse prima anche ancora del novecento per cui diciamo che hai perfettamente ragione però è molto strano che Searle e questi diciamo filosofi che hanno avuto questa intuizione bellissima di dire costruiamo un'ontologia sociale che parta da questo concetto non lo abbiano subito esteso alle emozioni dopo ci sono arrivati anche loro però insomma non è stata una cosa immediata ecco poi per l'altro discorso sì beh mi fa molto riflettere questo esempio che hai fatto che tra l'altro è bellissimo ti riferisci a Natasha che è andata quella è pace sì non me la ricordavo sì sì io in quel periodo stavo studiando proprio questa cosa quando l'ho riletto per le luci sì sì no ma è bellissima questa cosa qui mi era sfuggita di Natasha che va a vedere questo spettacolo probabilmente lei non è interessata a quella cosa l'interesse Agostino insegna no? se tu non ami qualcosa non entri in contatto quindi non la condividi perché se tutto quello che abbiamo detto è vero conoscere significa anche condividere allora ha ragione Agostino che dice se non c'è l'amare che permette questa condivisione o l'interesse come dice dopo Habermas non c'è neanche la conoscenza no? e quindi è bellissima adesso me l'andrò a rileggere queste pagine in cui come dici tu Natasha vede lì sul palco una specie di marionetta che si muove e non riesce a diciamo a leggere l'espressività di questo di questo personaggio per cui tirando un po' le somme della tua tesi noi potremmo affermare che non soltanto lo schizofrenico si trova in una situazione di questo genere ma anche in tutti quei casi in cui non c'è un interesse che ci porta a a comprendere quello qualcosa che è esterno al nostro discorso e non so se va nella tua direzione di una condivisione dell'immaginazione certo tanto è vero che noi probabilmente abbiamo la stessa reazione di fronte a forme d'arte che non ci sono no? si per cui abbiamo i codici di base o abbiamo tutti una zia che dice ma cos'è questa arte moderna qui non la capisco no? ecco quindi c'è sempre qualcuno che ha questo discorso che fa questo discorso per cui c'è anche un problema di condivisione della stessa emozione ma poi io estenderei lo stesso discorso ancora in maniera più ancora radicale cioè che cos'è l'arte stessa poi cioè l'arte non è qualche cosa che risponde a questa nostra fame di nascere del tutto cioè quando Van Gogh è lì che sta dipingendo che cosa sta facendo? cioè prima abbiamo detto che ognuno di noi all'interno di questo schema generale di Ekman è in grado di dare una forma espressiva a se stesso no? e che dà forma a se stesso e al suo posizionamento proprio anche nella forma artistica cioè la forma artistica forse potrebbe essere interpretata come una dei casi più singolari e intensi con cui noi diamo forma a noi stessi quello che voglio dire se questo è vero tutto sommato tutti mi pare cosa ha fatto 800 quadri no 200 ha scritto Van Gogh ha fatto moltissimi quadri lui era lì che in 8 anni mi pare che abbia fatto veramente moltissimi quadri cioè tutti quei quadri lì in realtà erano degli autoritratti anche quando dipingeva il campo di grano Van Gogh stava dipingendo se stesso nel senso che stava dando forma a se stesso nel sua creatività artistica l'opera d'arte è una materializzazione del salto che l'artista sta facendo per dare forma a se stesso quindi perché quando questa è una cosa che dovete spiegarmi perché io sono colpito da Van Gogh e non da Picasso ad esempio perché a me piace moltissimo non so ad esempio Kandinsky e non Picasso e un altro invece piace Picasso e non Kandinsky cioè io ho l'impressione che quando vedo quell'opera lì di Van Gogh o di Kandinsky io vedo il trampolino di lancio che ha permesso a Kandinsky in quel momento di compiere un salto un salto nella sua fame di nascere del tutto è come se lì ci fosse uno schema che io riesco a incogliere in maniera iconica intuitiva e vedendo quell'opera d'arte mi attira perché è lo spazio che mi viene offerto per continuare a nascere anche a me per quello che mi attira per quello che diventa qualche cosa di così importante per la mia esistenza perché ci sono certe persone che hanno bisogno di ascoltare in continuazione una determinata musica cioè non è una cosa così diciamo da poco è proprio un bisogno una cosa molto forte a volte penso che sia capitato a tutti voi di aver bisogno di sentire una determinata musica bisogno di rivedere un determinato quadro bisogno di leggere una determinata poesia bisogno di leggere un romanzo perché? perché nell'opera d'arte c'è nascosto lo schema che ha permesso a quell'autore di rinascere questa tesi mi è venuta in mente leggendo Girard su Dostoevsky lui dice Dostoevsky ogni volta che scriveva un romanzo rinasceva il romanzo di Dostoevsky è una metamorfosi lui attraverso ogni romanzo è rinato ed è diventato un'altra persona la tesi di Girard poi è veramente molto bella perché dice all'inizio Dostoevsky era un deficiente c'era una persona veramente ingenua stupida e attraverso questi vari passaggi diventa un genio quindi ci sono diverse evoluzioni e in ogni romanzo che ha scritto lui è rinato ed è riuscito a diventare un'altra persona per cui ogni romanzo di Dostoevsky ha in sé racchiude in sé questo questo schema magico che permette una rinascita e noi rileggendo quei romanzi non è che possiamo ripercorrere lo stesso percorso di Dostoevsky perché questo schema è uno schema che naturalmente funziona in maniera maieutica non ci dice tu devi fare così 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 però leggendo i romanzi russi noi riusciamo a trovare quello spazio di cui abbiamo bisogno per compiere questo percorso per riuscire a continuare a nascere del tutto come dice Zambrano del resto il problema è questo se un bambino non vede come si controlla l'ira o la rabbia come fa a esprimerla cioè se è vero che noi siamo esseri plastici che non nasciamo come il puledro che in pochi secondi si mette in piedi da soli vuol dire che noi per riuscire esprimere determinate emozioni ad un livello ad un certo livello di complessità come l'ira o la rabbia parliamo della gelosia o la gelosia abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo faccia vedere se un bambino non vive in una famiglia che gli fa vedere come si possono gestire queste emozioni come fa questo bambino a esprimerle l'esprimerà in maniera nella maniera più primitiva possibile ad esempio prenderà e si metterà a sbattere la testa sul muro cioè non avrà altri strumenti se non quelli di una capacità espressiva estremamente rozza e primitiva perché per poter esprimere i nostri sentimenti noi abbiamo bisogno dell'arte abbiamo bisogno di leggere libri abbiamo bisogno di vedere film abbiamo bisogno di ascoltare musica abbiamo bisogno di leggere poesia abbiamo bisogno di un'interazione con persone che ci sono vicine che ci fanno vedere ci fanno nostro padre ci fa vedere come si gestisce o non si gestisce la gelosia la rabbia è lo stesso nostra madre noi abbiamo imparato da loro come si gestiscono queste emozioni nel bene e nel male perché sono questi gli stupi cioè sono veramente dei punti di riferimento necessari se non ci sono questi punti di riferimento il nostro livello di espressività rischia di ridursi a quel bambino che per esprimere la rabbia sbatte la testa sul muro si dà i pugni in testa perché non ha altri strumenti espressivi quindi da qui l'importanza dell'opera d'arte buonasera professore la mia domanda è come si spiega in base a quello che ha detto lei nel film di Stanley Kubrick il monolite cioè che da un passaggio più rozzo si può passare misteriosamente ad uno stato più evoluto se c'è un nisso un po' difficile diciamo un po' forzato forse si beh l'immagine è molto bella poi è ripresa un po' dappertutto poi Kubrick insomma possiamo dirlo che io lo nonnoverei anche se siete d'accordo lo nominiamo stasera fra i filosofi insomma non è soltanto un regista potremmo nominarlo anche fra i filosofi diciamo che lui se la cava molto diciamo in maniera se la cava molto bene nel senso che in maniera metaforica arriva questo monolite e questo contatto con questo monolite spiegherebbe il passaggio questo salto che viene compiuto dall'uomo dall'umano verso il pensiero simbolico è una metafora però è una metafora attualmente gli studi dicevo di antropologia culturale stanno tentando di andare al di là del linguaggio metaforico e stanno cercando concretamente di capire come sono andate le cose e è una storia affascinante bella per lo meno come 2001 odissea nello spazio vi faccio notare questo che ci sono state tutta una serie di discipline ieri parlavo ad esempio della sociologizzazione dell'antropologia filosofica o del tentativo di sociologizzare l'antropologia filosofica che però non è stato un caso isolato tenete presente che tutta una serie di discipline io nomino soltanto non so per esempio psicologia sociologia sono partite qualche decennio fa che avevano ancora un'impostazione non dico filosofica però avevano una ricchezza culturale che era straordinaria pensiamo non so io ve ne parlo anche perché conosco molti colleghi ad esempio di sociologia miei amici che hanno iniziato la sociologia e si occupavano non so ad esempio di Max Weber per cui erano sì sociologi però tutto sommato erano anche filosofi adesso vengono da me a piangere nel senso di dire guarda che noi siamo completamente marginati nella nostra disciplina perché nessuno è più interessato a Max Weber stiamo andando verso una sociologia di tipo quantitativo con metodi scientifici di tipo quantitativo per cui la nostra disciplina è diventata completamente diversa da quella sociologia che noi avevamo fatto all'inizio 20-30 anni fa lo stesso in psicologia c'è stata tutta una serie di discipline che sono andate verso questa direzione una delle pochissime eccezioni e per questo secondo me è affascinante è l'antropologia l'antropologia non parlo dell'antropologia filosofica io parlo dell'antropologia quelli che si mettono a fare gli scavi nelle grotte del Sudafrica o che si mettono a studiare i fossili e degli scheletri delle varie forme dell'homo sapiens e degli altri esseri umani o dei nostri progenitori beh questi che sono partiti come una scienza diciamo una disciplina molto vicina alla scienza esatta nel senso che erano lì che facevano calcoli e misure si sono straordinariamente avvicinati alla filosofia adesso se voi andate a leggere questi testi di antropologia culturale beh diciamo che sono testi che hanno compiuto un percorso non dico opposto però che hanno tentato di compensare di aggiungere un metodo scientifico perché allora hanno bisogno di partire dai dati scientifici di dimostrare perché questo osso è lungo due centimetri o un paio di millimetri in più rispetto a quell'altro però con un'impostazione che ha un sapore filosofico quando questi teorici ad esempio a me è piaciuto questo libro che si chiama proprio sull'origine del pensiero simbolico di questo Barnard che insegna antropologia culturale Barnard che insegna antropologia culturale a Edimburgo un suo libro è già stato tradotto dal mulino mentre questo qui che è l'origine del pensiero simbolico ancora non è stato tradotto soltanto in inglese beh lì lui fa tutta una serie di discorsi che cercano di descrivere questo salto verso il pensiero simbolico utilizzando ad esempio questa categoria dello sharing cioè della condivisione delle tecniche di caccia che avrebbero permesso nuove forme più complesse di comunicazione che hanno portato poi uno sviluppo in questa direzione qui e quindi da questo punto di vista per me è stata una sorpresa di fronte all'impoverimento che notavo ad esempio in sociologia o in psicologia vedermi di fronte che invece c'è un'antropologia culturale che si sta sviluppando in questa maniera mi ha aperto veramente il cuore cioè mi ha fatto respirare difatti sono molto interessato anche agli sviluppi successivi che ci saranno mi pare che quindi una disciplina che è veramente molto interessante ecco quindi questo problema che veniva posto da Kubrick oggi viene analizzato e viene preso in considerazione ma in maniera molto seria cioè stanno cercando di capire che cosa è successo tutto è iniziato da Tattersall che è questo grande antropologo che ha messo in discussione quello che era un dogma fino agli anni 70 80 secondo la scienza antropologica fino a quel momento il dogma dell'evoluzione è che c'era uno sviluppo graduale per cui gradualmente si sarebbe ingrandita la scatola cranica del cervello gradualmente il cervello sarebbe diventato sempre più grosso poi a un certo punto per magia ha superato non so quanti ha determinato un numero magico che misura la la massa cranica tac l'uomo è diventato intelligente e ha fatto il salto verso il pensiero simbolico Tatterson è stato un genio perché ha detto no questa ipotesi è completamente sbagliata l'evoluzione non procede in maniera graduale ma per salti c'è stato qualche cosa a un certo punto che ha determinato una serie di salti che ha portato alla nascita dell'homo sapiens e successivamente al salto verso il pensiero simbolico è intervenuto un fattore extra biologico lui dice proprio così e lo individua dice questa evoluzione può essere spiegata soltanto se è intervenuto un fattore relazionare un fattore culturale cioè qualche cosa che non ha a che fare soltanto con la biologia da questa ipotesi di Tatterson poi si sono sviluppati tutta una serie di ricerche che hanno sviluppato questa tesi e che stanno andando verso una ricostruzione di quelle che possono essere state le varie fasi per esempio Tatterson era ancora legato all'ipotesi per cui questo fattore culturale era identificato con il linguaggio però questa chiaramente è un mordersi la coda perché tu non puoi dire che l'uomo ha fatto il salto verso il pensiero simbolico attraverso la massima espressione del pensiero simbolico questa chiaramente è una contraddizione che deriva dal fatto che all'epoca diciamo così c'era la svolta linguistica per cui tutto era linguaggio c'era una specie di cappa mentale per cui era chiaro che lui è caduto su questo banale incidente di percorso perché tutta l'epoca spingeva in quella direzione Barnard ad esempio ha già superato questa tesi e afferma che questi nostri progenitori quando hanno inciso quei segmenti su questo reperto di ocra in questa bomboschiave che è stata scoperta nel Sudafrica e che sembra risalire a 77 mila anni fa non possedevano ancora un linguaggio verbale articolato per cui lui afferma che il salto verso il pensiero simbolico ha preceduto l'utilizzo di un linguaggio verbale articolato che è un'ipotesi molto interessante che non esclude che ci siano stati altri tipi però di linguaggio linguaggi corporei linguaggi non articolati come quello che sto usando io adesso però è molto interessante perché ci fa vedere appunto che questo questa ipotesi del linguaggio verbale articolato va messa in discussione lo stesso Tomasello aveva anche lui verificato questa ipotesi cioè su il livello dello sviluppo di un bambino allora anche lì uno si potrebbe dire ma è chiaro che un bambino riesce a compiere il salto verso il pensiero simbolico per forza ascolta il linguaggio della madre e attraverso l'ascolto del linguaggio della madre compie questo salto cosa ha fatto una persona intelligente come Tomasello ha detto va bene io provo a verificare se questo è vero come ha impostato l'esperimento Tomasello per verificare se questo è vero ha preso dei neonati sordo-muti che non potevano ascoltare quello che diceva la madre e ha verificato che nonostante fossero sordo-muti erano in grado di compiere ugualmente il salto verso il pensiero simbolico questo dimostra secondo Tomasello che questo salto verso il pensiero simbolico non deriva dall'ascolto del linguaggio verbale articolato della madre ma da qualcos'altro che lui chiama questa logica di tipo cooperativo solidaristica che guida queste pratiche di condivisione emotiva quindi la mia risposta sarebbe questa io sono rimasto all'idea di espressività no? cioè lei ha detto che c'è stato chi ha tentato di fare una specie di catalogo di alfabeto delle espressioni ma io penso che le espressioni siano in fondo dei segni ma sono dei segni sopradeterminati cioè nel senso che possono significare più cose cioè un sorriso può essere di derisione di disprezzo di empatia di antipatia e allora che cos'è che ci permette di comunicare il senso il significato di questo segnale si recepisce l'intenzione che c'è alle spalle quello che le chiama il contesto l'interso oggettività però prendiamo per esempio negli animali due cani che si affrontano possono fare le stesse identiche espressioni corporee sia che stanno per aggredirsi sia che vogliono giocare ora il cane capisce che quello che sta facendo lo stesso movimento di un'aggressione in realtà sta giocando allora come come si avviene questa comunicazione è un problema cioè la ricezione di questi segnali sopradeterminati è problematica sì sono perfettamente d'accordo però io le farei risponderei con un'altra domanda a lei è mai capitato di osservare una sua non so un suo amico ma anche parliamo una qualsiasi persona e di percepire direttamente che stava mentendo penso che questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti cioè noi non soltanto siamo in grado di percepire nel sorriso dell'altro che è felice ma siamo anche in grado di percepire che lui sta mentendo con quel suo sorriso quello che voglio dire è che il livello con cui noi riusciamo a decifrare questa espressività dell'altro può essere anche molto complesso può esserci non soltanto che io riesco a percepire il tuo sorriso ma riesco a percepire che il tuo sorriso è falso cioè riesco a percepire uno scarto fra la tua espressività e la tua intenzionalità purché tu non sia Marlon Brando che è un bravissimo attore è chiaro che allora lì siamo fregati oppure una donna molto affascinante per cui noi vediamo certe cose non altre è chiaro che lì siamo fregati lo stesso per cui quello che voglio dire cioè noi nell'espressività siamo anche in grado di notare questo scarto fra l'espressione e il vissuto questo secondo me ci porta un po' al cuore del problema il cuore del problema secondo me lo spiega molto bene Diltai Diltai ha scritto un testo bellissimo Erlebnis un Tausdruck in cui sviluppa una tesi di questo tipo lui dice ma di solito noi tendiamo a considerare separatamente il vissuto l'Erlebnis e l'espressione Lausdruck come se fossero due cose separate in realtà siamo noi che artificialmente le separiamo perché nella realtà queste due cose sono unite non possono essere separate sono un tutto unico vivente per cui io quando colgo l'espressione quando colgo direttamente l'espressione dell'altro io colgo in realtà l'unità vivente di Austro Unterlebnis per cui colgo immediatamente anche il suo vissuto e attraverso un'operazione artificiale che io nel mentire esprimo qualche cosa che non corrisponde al mio vissuto e nel far questo io vi dico la verità io faccio fatica tanto che proprio con mia moglie quando dico qualcosa che non è vero lei se ne accorga subito immediatamente perché perché per dividere artificialmente questi due momenti come dice Viltai bisogna essere dei bravi attori cioè dobbiamo avere un'abilità particolare perché altrimenti gli altri capiscono immediatamente che stai mentendo però la situazione di base è quella in cui vissuto ed espressione sono assieme questa ha una conseguenza secondo me rilevantissima per tutta la teoria della percezione perché se questo è vero allora noi dobbiamo renderci conto che percepire il vissuto di un altro o percepire il nostro vissuto non sono due cose completamente diverse mentre invece che cosa succede mi riferisco ad esempio a Brentano e anche a Husserl loro dicono se io percepisco il mio vissuto nella percezione interna c'è una priorità nel senso che c'è un'evidenza non posso sbagliarmi perché in questo caso io mi collego direttamente al mio Erlebnis al mio vissuto senza passare per l'espressione mentre se io invece guardo quello che stai vivendo tu adesso io prima devo cogliere la tua espressione di lì dopo devo fare tutta una lunga mediazione per arrivare al tuo vissuto e posso fregarmi o perdermi quindi posso sbagliarmi ecco se Dilt hai ragione questo schema è completamente sballato non funziona così perché io colgo l'unità vivente della tua espressione vissuta così colme colgo immediatamente l'unità vivente della mia espressività vissuta questo che cosa voglio dire voglio dire che quando colgo un mio vissuto passo necessariamente attraverso la sua espressione e quindi posso sbagliarmi anche quando colgo il mio vissuto quindi è molto più difficile di quanto noi pensiamo tendenzialmente cogliere il proprio vissuto ed è molto più facile di quanto noi pensiamo tendenzialmente compiere il tuo vissuto cioè il vissuto di un altro per cui questa mediazione dell'espressività è presente anche nella nostra percezione interna per questo che andiamo cioè se non fosse questo meccanismo esistente la psicoanalisi non sarebbe neanche nata per questo che noi abbiamo bisogno a volte di un terzo cioè di un osservatore imparziale che colga i nostri vissuti perché a volte una persona terza è in grado di vedere meglio il tuo vissuto i conflitti di interesse non sono soltanto per Berlusconi ci sono anche per noi molte volte noi abbiamo dei conflitti di interesse nell'interpretare i nostri vissuti e questo deforma il modo con cui noi interpretiamo i nostri vissuti per questo che a volte una volta si andava dal confessarsi dal sacerdote oggi si andava forse dallo psicoanalista perché anche lì adesso sembra che siamo in crisi per cui si ha bisogno in ogni caso di un punto di vista terzo diciamo così per cui è importante tenere presente questo aspetto che questi due momenti del vissuto e dell'erlebnis sono separabili soprattutto soltanto artificialmente e poi non c'è un vissuto senza un erlebnis cioè non c'è un scusate non c'è un vissuto senza un'espressione perché altrimenti ritorniamo a Kant al Dinganzish cioè il fenomeno è tutto l'espressione è tutto nell'espressione c'è il vissuto non esiste questa questa tesi di un'intuizione di un intuizionismo per cui noi siamo in grado di cogliere intuitivamente qualche cosa un vissuto immediatamente senza passare per il piano espressivo secondo me è un ipotesi che non assolutamente non convincente io mi ricordo che quando facevo l'università a Bologna seguivo da un lato le lezioni di Umberto Eco e dall'altra quelle di Enzo Melandri Enzo Melandri era un muserliano sfegatato e Umberto Eco spiegava Charles Anders Peir che è questo grande secondo me un grandissimo filosofo il più grande forse filosofo americano che ha fondato la semiotica e a me ha convinto questo ragionamento di Peir si diceva tutto è segno tutto è segno non è possibile una intuizione intesa come un processo cognitivo che fa meno dei segni automaticamente noi arriviamo a questo triangolo semiotico l'unica cosa che diciamo ammetteva Peir è l'abduzione che sarebbe un caso estremamente semplificato che però implica necessariamente la mediazione segni anche quella per cui tutto è segno la conoscenza avviene attraverso segni la conoscenza del vissuto avviene attraverso l'espressività è impossibile separare il vissuto dall'espressione noi sentiamo qualche cosa nella misura in cui l'esprimiamo se non riusciamo a esprimerla vuol dire che sta emergendo quando sentiamo che qualcosa sta emergendo l'espressione di qualche cosa vuol dire che sta emergendo anche il vissuto perché ancora non si è formato non esiste neanche il vissuto il vissuto esiste soltanto quando si esprime va di pari passo all'espressività buonasera professore mi chiedevo lei prima parlando di Scheler ha parlato di pratiche di condivisione emotiva che secondo Scheler sono la base dell'ontologia sociale e parlando di questo mi è venuto in mente dato che è il mio attuale oggetto di studio un testo di Freud ovvero Psicologia e le masse analisi dell'Io del 1921 dove Freud esprime il fatto che gli legami emotivi che sono alla base che sono più che altro responsabili della coesione degli individui all'interno della società sono di tipo libidico quindi da un certo punto di vista una tesi forse non troppo lontana da quella di Scheler mi chiedo com'è possibile che negli stessi anni e mi riferisco adesso non so precisamente le date dei testi di Scheler ho citato quella di Freud ma mi viene da pensare che nel 1918 nello stesso contesto culturale tedesco quindi esce il libro di Spengler sul tramonto dell'Occidente che in un certo qual senso si propone di descrivere quello che è il decadimento della struttura sociale e quindi della cività occidentale ed è un libro che riscuote un grandissimo successo allora com'è possibile secondo lei la sussistenza negli stessi anni nello stesso contesto culturale di queste due correnti che sembrano andare in due direzioni opposte grazie queste due correnti ti riferisci a Scheler e Freud quindi l'idea dell'emozionalità alla base della coesione sociale e apparimenti un altro autore come Spengler che non parla di coesione sociale bensì di come essa stia decadendo più che enunciare quello che è alla base della sua costituzione sì beh ciò che crea può anche distruggere nel senso che così come se ho capito bene la domanda così come una condivisione emotiva può creare ontologia sociale altrettanto può distruggerla prima facevamo il caso ad esempio del risentimento dell'invidia possono distruggere ad esempio sul piano personale quando io i termini per esempio io stavo parlando con un mio collega tedesco forse anche tu forse mi potrai dare qualche dritta lui mi diceva in tedesco hassen ha un significato più forte che in italiano cioè odiare in tedesco e in italiano non hanno esattamente lo stesso significato quando in italiano noi diciamo ma io ti odio tutto sommato uno potrebbe voler dire non ti voglio bene ti detesto no? ha un significato un po' di questo tipo invece il tedesco quando il tedesco ti dice io ti odio vuol dire io voglio la tua cancellazione ontologica sì sì interessa appunto in questo qua molto radicale già già l'espressione has già il suono lo dice has l'odio così come il contrario lieben ich liebe dich non si può dire come ti amo perché è troppo forte ich mag dich ti voglio bene ich liebe dich è una cosa troppo forte non si può dire in modo così facile come si dice ti amo al contrario dell'inglese in cui invece I love you è una cosa molto anche tra amici ecco per cui sono contento che lui conferma non ci avevamo messi d'accordo prima conferma questo discorso per cui quando un tedesco ti dice ti odio proprio vabbè quando dicevano degli ebrei quello è stato un po' un caso particolare però ecco quando un tedesco ti dice ti odio state attenti nel senso che vuol dire proprio che non è semplicemente così vuol dire proprio il tuo annientamento ontologico ora secondo me però il tedesco ha ragione cioè l'odio ha questa funzione ha questa funzione cioè il sentimento dell'odio ha questa capacità di distruggere ontologicamente la persona è la persona a cui è diretta se io odio una persona io ho molte probabilità di fare in modo che questa persona cioè quando odio una persona io ho in mente una specie di modello vedo già il fallimento di questa persona odiando odiando questa persona io ho delle buone probabilità di fare in modo che questa persona venga tratta da questo fallimento che ho in testa l'odio è un'emozione ontologicamente fortissima se è rivolta a una persona che mi vicina io sono in grado di distruggerla se non è cioè naturalmente se è più forte di me no però è un sentimento che non va per niente sottovalutato l'odio è uno strumento un'arma di distruzione di massa cioè effettivamente l'odio è in grado di distruggere è in grado di distruggere altrettanto i tedeschi hanno ragione sul libe quando tu affermi ti amo amare ha una potenza ontologica terrificante nel senso che l'amare significa veramente condividere questa fame di nascere del tutto e quindi far emergere una novità ontologica si mette al mondo veramente qualche cosa amando una persona e condividendo una vita con una persona così come con l'odio lo distruggi lo stesso avviene sul piano della psicologia di massa per cui è chiaro che così come ci sono se noi condividiamo delle emozioni come potrebbero essere il risentimento per esempio noi oggi nella società italiana rischiamo questo di condividere delle emozioni che sono ad esempio rivolte verso quelli diversi da noi verso gli estrani verso delle persone che non appartengono alla nostra cultura c'è il rischio di coagulare la nostra identità attraverso queste emozioni una condivisione di queste emozioni e questo ha un impatto negativo sulla nostra società quindi bisogna stare attenti perché queste emozioni così come possono questa condivisione emotiva così come può costruire può anche distruggere questo è il primo punto il secondo punto su il rapporto fra Freud e Scheler Scheler ne avevo parlato ieri nel 1922 è un anno molto particolare perché legge questo testo di Schelling ma legge anche il testo di Freud e anche qui cambia nel senso che c'è proprio questo è un cambiamento netto mi pare fino al 1922 Scheler afferma che lo spirito ha un'energia propria e quindi non c'è un processo di sublimazione lui critica Freud dicendo che non esiste un processo di sublimazione perché lo spirito ha già un'energia propria nel 1923 24 lui riprende esattamente questa teoria di Freud della sublimazione e afferma che lo spirito originariamente è impotente la famosa tesi dell'on macht der geist per cui il geist lo spirito è impotente originariamente impotente questa tesi si deriva da Freud quindi lui la riprende da Freud c'è ancora un intervento va bene ok altre domande allora grazie anche di questa seconda parte del dibattito che era altrettanto ricco su vari temi dalla fenomenologia all'antropologia anche nel senso lato con questa tesi della fabbricazione sociale dell'essere umano che interviene anche sullo stesso sviluppo biologico che questo è la svolta diciamo da dagli anni 60 70 e poi si può dire fino alla riflessione sullo sviluppo delle discipline della sociologia dell'antropologia un tema che ci è interessato anche particolarmente chiedendoci che cosa è l'antropologia che cosa è la sociologia perché abbiamo questo problema oggi che a differenza del passato le discipline non agiscono nel senso interdisciplinare ma si fondano in modo che non si riesca più a comprendere che cosa è l'antropologia che cosa è la sociologia che cosa è l'economia perché ci sono antropologi che fanno studi che potrebbero essere catalizzati anche come economia o scienze politiche e in questo senso era un tema che ci interessava anche molto di comprendere lo sviluppo della sociologia e dell'antropologia grazie e speriamo di ridere grazie 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 grazie